Ciao a tutti, chi non rispetta se stesso sarà destinato ad essere manipolato dagli altri. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Allora, spesso noi ce la prendiamo con i manipolatori. Ah, questo è un manipolato, questo è un narcisista, questo è qui, questo è quello. Allora, questo può essere vero, ma devi tenere presente una cosa fondamentale, che le persone che ti manipolano utilizzano soprattutto la mancanza di amore per te stesso, cioè la mancanza di autostima. Perché le persone che hanno una grande autostima, un'autostima ferma, un'autostima sicura, beh, esercitano il liber arbitro, esercitano la capacità ferma di poter prendere decisioni. Quindi è inutile lamentarsi di essere stati manipolati se poi non abbiamo autostima di noi stessi. L'autostima è la percezione che abbiamo di noi stessi, quindi è la capacità di decidere. Addirittura ci sono persone che si mettono nelle mani degli altri per prendere la decisione. Farò bene a fare questo, farò bene a fare quell'altro, cosa dovrò fare? Si mettono nelle mani degli altri, perché non hanno sufficiente forze interiori. Quindi dobbiamo sfatare un po' il mito che c'è il manipolatore cattivo. Certo, ci saranno quelli che sanno, diciamo, come convincere, manipolare, fare, però fanno leva semplicemente su una, come dire, su una falla nella persona, cioè sull'incapacità di amare se stessi. Quindi se tu vuoi renderti conto che, se tu vuoi evitare di essere manipolata o manipolato, devi sviluppare autostima. Questo dobbiamo tenerlo presente. Dobbiamo tenere presente anche un'altra cosa, che l'autostima è la vera criptonite per il manipolatore. Come la criptonite, diciamo così, tenevo lontano Superman, la vera criptonite del manipolatore è l'autostima. Perché se tu hai forte autostima e rispetti te stesso, rispettare se stessi, cosa vuol dire? Beh, rispettare se stessi vuol dire appunto avere autostima, avere rispetto per se stessi. Chi rispetta fortemente se stessi non si lascia manipolare. Non si lascia manipolare perché avrà sempre un quadro chiaro nel poter prendere le decisioni. E amare se stessi e rispettare se stessi significa intanto una cosa importante, che l'unico amore della vostra vita, vero, dovete essere voi stessi. Cioè, se in prima istanza non ti ami, se in prima istanza non ti rispetti, se in prima istanza non fai qualcosa di buono, di valido per te, non potrai mai amarti. Questo devi tenere presente fondamentale. L'altra credenza fondamentale che devi necessariamente coltivare, necessariamente sviluppare, è quella di renderti conto che meriti di essere felice, meriti di essere amata, meriti di essere amato. Perché anche qua, se tu per primo, o per prima, non pensi di meritare la felicità, non pensi di meritare l'amore, figurati se gli altri te lo danno. Cioè, questo dobbiamo prendermi in considerazione. Cioè, nessuno ti dà nulla se tu non pensi di meritarti qualche cosa. Quindi, l'amore per se stessi comincia dal formare queste credenze, dal lavorare su queste credenze, e dal rendersi conto che sono le uniche, è l'unica possibilità, l'unica vera possibilità, per poter essere di fatto felici, e non manipolati dagli altri. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!